Arrivano le conferme che molti telespettatori stavano aspettando Ecco che cosa sta succedendo a Serena Bortone negli ultimi giorni La trasmissione di Rai 1, è stata protagonista di numerosi rumors su quella che è la reale protagonista del programma del primo pomeriggio televisivo Indiscrezioni clamorose che potrebbero cambiare il futuro della trasmissione Arrivano le conferme per Serena Bortone. Ma le voci sulla sua conduzione ad oggi è un altro giorno sono vere? Formato News sono in tantissimi, infatti, i telespettatori che attendono con ansia di capire cosa ci sia di vero su quelle che sono le ultime voci sulle voci Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! I protagonisti della trasmissione televisiva, tra cui soprattutto la presentatrice Serena Bortone Sono infatti state smentite in maniera categorica e senza alcuna incertezza le voci che volevano un cambio alla guida della trasmissione televisiva Secondo i dati Auditel, infatti, il programma televisivo condotto dalla brillante giornalista ha raggiunto grandi risultati in termini di ascolti e share Le modifiche applicate nell'ultima stagione, che ha visto lo show andare verso uno spettacolo più di intrattenimento, hanno dato grandi frutti e questo è valsa la conferma per gran parte del team